per giorni selvaggi questa sera abbiamo un autore in italia molto molto amato patrick mcgrath autore di follia che avrete letto probabilmente tutti questo libro è la guarda robiera un libro edito la navi di teseo io ho appena iniziato a leggerlo e come per follia è un libro che ti tiene incollato martino gozzi che sarà questa sera sul palco con patrick mcgrath mi conferma che è un libro da leggere tutto in un fiato lo streaming c'è da dove cominciare io devo dire per me è un onore essere qui con patrick mcgrath ed è un emozione come penso sia un emozione per tutti voi dei noni dei nove romanzi di patrick mcgrath sono convinto che ciascuno di noi abbia il suo preferito al quale siamo legati in maniera viscerale e quasi spiegabile per molti di voi sarà follia immagino per qualcuno sarà l'estranea port mango per me è grottesco un libricino geniale bellissimo che poi il libro d'esordio di patrick mcgrath e che risale al 1989 non c'è come si dice in questi casi davvero bisogno che ve lo presenti mcgrath è un maestro del thriller psicologico è un maestro della manipolazione del gioco di specchi del gotico e del grottesco appunto ma è soprattutto un indagatore dell'ossessione dell'ossessione e del perdersi nell'ossessione nell'amore malato nell'amore che sfocia quasi nella nella psicosi possiamo quasi dire che si addirittura l'inventore di un genere letterario che nasce e si esaurisce con i suoi romanzi che sono assolutamente riconoscibili a prima vista che come diceva prima paurizia davvero si reggono di un fiato e ci catturano e che cominciano ad avere anche alcuni epigoni ma che non non arrivano mai no a questa questa intensità proprio una questione di intensità direi il libro è la guarda robiera pubblicato da pochissimo dalla nave di teseo quasi in contemporanea con l'uscita statunitense inglese ed è un libro che ci riporta nella londra del 1947 una città una capitale che è uscita vittoriosa dalla guerra sul piano morale ma che è economicamente in ginocchio distrutta è l'inverno più freddo da tanti anni e il libro si apre all'indomani della morte di un attore celebre e molto amato dal pubblico londinese del teatro Charlie Grice e questa è la storia di sua moglie Joan che è la guarda robiera del titolo e la prima domanda che voglio rivolgere a Patrick McGrath riguarda proprio questo titolo che in inglese è the wardrobe mistress e quindi sì la signora del guardaroba la costumista ma nell'inglese contiene anche una un doppio senso un'allusione che in italiano forse si perde e partirei da qua qual è il doppio senso del titolo originale del titolo originale il titolo di wardrobe mistress è in inglese due costumes in a theatre. That was what she would be called in 1947 when the novel takes place. But the meaning of mistress in English carries also the connotation of a lover. Not the wife but the lover and in this case it would be the lover of someone associated with the wardrobe and in this case the one associated with the wardrobe is in fact her husband who in a sense haunts the wardrobe. That is the Guadaroba. So there's the double meaning which doesn't translate into Italian but it was the intention with the English title of the book. Thank you. Bene. Bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono molto lieto di poter essere presente in questa sede questa sera. Dovrei anche dire che è la prima volta che sono qui a Torino. In merito al titolo, il titolo inglese della Guadarobiera è The Wardrobe Mistress. Dobbiamo dire che in inglese c'è un doppio significato della parola mistress perché vuol dire sia la persona, la donna che si occupa dei costumi all'interno del teatro e quello che faceva questa protagonista in quel freddo inverno del 1947, quando ha luogo la storia del romanzo, ma mistress in inglese vuol dire anche qualcos'altro, ha un'altra connotazione, ovvero non è tanto la connotazione di una moglie ma la connotazione di un lover, quindi di una amante. In questo caso era un amante di qualcuno associato al guardaroba, quindi la persona che è associata al guardaroba è suo marito, suo marito che è presente in questo guardaroba infestando come un fantasma il guardaroba stesso. Questo è il doppio significato che intendevo dare al mio titolo in inglese. Sì, perché naturalmente non faremo spoiler, questo succede nelle primissime pagine del libro. Joan decide, assieme alla figlia vera, di tornare al teatro dove il marito partecipava a una produzione della dodicesima notte di Shakespeare e il ruolo del marito è stato affidato a un giovane sostituto, ma non appena Joan ne sente la voce scatta qualcosa in lei ed è qualcosa che poi si riverbera in tutta una serie di momenti del suo quotidiano e che la portano appunto a vivere una nuova infatuazione con forse lo spirito del marito, è possibile che appunto alleggia nel guardaroba ed è incarnato da questo da questo giovane sostituto. Right? Yes, this is what happens. She sees the young actor who has taken over the role of her husband, making the same gestures, adopting the same postures, the tone of voice as he speaks his lines is identical. This is in fact what an understudy must do. but for Joan, in her great grief, what she recognizes is her husband and sees within the eyes of this young actor the spirit of her husband and realizes with joy that he is still here. Sì, esatto, ed è proprio questo quello che succede, la protagonista quindi vede questo giovane attore che ha assunto il ruolo di suo marito all'interno del teatro e vede che produce gli stessi gesti, ha la stessa postura e anche lo stesso tono di voce quando pronuncia le battute che pronunciava precedentemente il marito ed è proprio questo naturalmente quello che deve fare un attore che sostituisce qualcuno, tuttavia la protagonista che si trova ancora in un momento di grave lutto riconosce nel giovane attore proprio suo marito e vede in lui lo spirito del marito e lo riconosce con gioia. Ecco, possiamo dire che si tratta di un caso di elaborazione del lutto non risolto ed è evidente già no potete vederla la spirale che è tipica dei romanzi di Patrick McGrath ma per tornare al guardaroba del titolo c'è una dimensione molto fisica molto quasi tattile di questa presenza perché John presta i vestiti del marito e coinvolge quindi il sostituto che a sua volta ha un paio di nomi Frank comunque in un gioco in un gioco destinato forse a portarla dove verso un tipo di perdizione. Alla prossima Un'altra prossima Asi Asi Martino This is the beginning of something this feeling that the young actor contains the spirit of her dead husband and then the relationship between the two will develop gradually but quite Quate rapidamente, really. And there will come a point where she realises that this young actor is very poor. Many young actors are desperately poor and his clothes are not in a good condition. And she has a wardrobe full of her husband's clothes, his suits and jackets. He was something of a dandy, Charlie Grice. And so she says to the young man, you must allow me to give you some clothes that my husband will no longer need. And so there comes the moment when he tries on a suit of her husband's. And Joan, of course, is a master or a mistress, a semstress of great ability. And so she attends to the alterations. And so she will work very close to him as she pulls him the trousers and the jacket over his chest. And it's a moment of great physical intimacy, but it's not a moment of sexual intimacy. Or not yet. Sì, bene, come dicevi giustamente Martino, questo non è l'inizio. L'inizio è dove appunto viene riconosciuto all'interno della personalità di questo giovane attore lo spirito del marito. E poi dopo si sviluppa una certa relazione tra i due, una relazione che si sviluppa gradualmente, ma con una certa rapidità, dobbè dire. E quindi a un certo punto questo giovane attore che si riconosce essere povero, molto povero, a quei tempi molti attori erano disperatamente poveri, per così dire, e si capisce che anche degli abiti, dei vestiti, dei costumi, che non sono sicuramente in buone condizioni. E invece la protagonista ha a disposizione tutto il guardaroba del marito, che era un attore, un po' un attore, un dandy, che aveva tutti questi bei vestiti, costumi. E quindi arriva ancora un altro punto dove lei dice mi devi permettere di poterti prestare, poterti dare i vestiti di mio marito, che adesso sicuramente non avrà più bisogno di utilizzare. E quindi poi arriva un altro momento, un momento in cui lei gli fa provare un abito del marito e quindi John, la protagonista, che è un abile costumista, sa bene fare il suo lavoro, quindi sa bene modificare i pantaloni per il giovane attore, gli fa provare bene la giacca, bene sul petto. Quindi arriva un momento in una certa intimità fisica tra i due. Attenzione, non una intimità sessuale, almeno non ancora sessuale. Ecco, come avete sentito, il suo eloquio è ricco, è generoso. E allo stesso modo la prosa nel libro è avvolgente, è incalzante ed è ricca di dettagli che ci trasportano in questo inverno londinese. E uno dei tratti caratteristici della narrativa di Patrick McGrath è spesso questo narratore inaffidabile. Molti dei suoi libri sono pronte delle storie, contenuti nei suoi libri sono narrate da personaggi che ci portano per mano verso un inganno e noi ci fidiamo come di bambini. Qui addirittura è un coro, stiamo parlando di teatro naturalmente, c'è un coro di voci femminili, c'è una prima persona plurale, un noi che è a sua volta un mistero nel mistero. No? Come sei arrivato a questo espediente abbastanza unico? It just occurred to me as I was writing, I just imagined that the story was being told not by any one of the characters and not by a distant author, but I imagined a group of old ladies, old theatre ladies sort of somewhere up there watching the action, a little like a Greek chorus, but they were rather gossipy old ladies, they were judgmental, they were funny, and they knew all of the characters in the story and commented upon the incidents, the action of the story as it went forward. I thought they were probably dead, but they were the ladies of the chorus as far, or the ladies of the theatre that actually then really take control of the book. Beh, è semplicemente successo, è successo così, senza una spiegazione particolare, perché è successo mentre stavo scrivendo il libro, è semplicemente come se avessi immaginato che la storia fosse raccontata non da uno dei personaggi e non da un autore, dall'autore, ma da alcune signore, signore anziane che stavano in alto, per così dire, e potevano vedere e raccontare la storia, come fossero delle signore che cantassero in un coro, per così dire, delle signore che erano, facevano del gossip, delle signore che davano dei giudizi in merito a quello che succedeva, delle signore che davano anche dei giudizi divertenti, dei pensieri divertenti a quello che stava accadendo, che conoscevano tutti i personaggi e commentavano anche le azioni della storia mentre si stavano svolgendo. Forse queste signore erano morte, comunque erano le signore del coro, forse le signore delle teatro, sono loro che prendevano il controllo della storia. A proposito di teatro e di fantasmi, ci sono due testi che vengono evocati più volte e poi messi in scena, uno appunto La dodicesima notte di cui Charlie Grice interpretava Malvoglio e l'altro è La duchessa di Amalfi. In un romanzo così ricco di echi letterari, perché hai scelto questi due testi teatrali? I knew both these plays quite well but I thought the proper thing was to begin with a comedy and end with a tragedy. You may expect that to be the reverse. I mean, in much of Shakespeare, we end with a dance or a marriage but I prefer to end with a tragedy and there were echoes within the tragedy of the story itself, particularly in terms of the Duchess of Amalfi and Joan Grice the protagonist. I won't draw out the comparisons between them but they are there and they added for me at least a sort of a level to the story. They deepened the story by having this play being the final theatrical event in the novel. Thank you. Well, first of all, I wanted to say well, I knew I knew both the pieces and I wanted to start with a comedy and then end with a tragedy just like in the case of these two pieces. Forse you would expect the opposite because in Shakespeare sometimes you end after the story with a ball or for with a marriage but in my case no I prefer to terminate the story with a tragedy and the story that ends up after the book is going to the story of the Duchess of Amalfi so the protagonist John Grice and then goes to the story of the Duchess of Amalfi è come se si fosse un confronto ed è proprio quello che appassiona maggiormente la storia che l'approfondisce ancor di più proprio anche con l'evento teatrale finale can I just add that if you know the play the Duchess of Amalfi it is very moving in that the Duchess dies for love she dies by the choice of her lover which is not that which not the man whom her family would choose for her to marry and that is what makes her a great heroine I don't say that Joan dies for love but there is some echo of that great tragic gesture in the novel non so se conoscete la Duchessa di Amalfi dovete sapere comunque che è una pièce piuttosto commovente perché la protagonista la Duchessa quindi muore per amore muore per una scelta d'amore perché comunque il suo amore è un amore forzato non è un amore che poi dopo lei sceglie essendo non quello che la sua famiglia le ha imposto di amare e quindi per questo motivo diventa una eroina della storia Joan la protagonista del libro non muore per amore possiamo dire però c'è una certa eco che ritorna in questo evento tragico finale ecco comincio adesso con una personali se posso tua moglie è stata un'attrice e una regista teatrale e mi chiedevo leggendo essendo poi lei a sua volta una delle tue prime lettrici qual è stata la sua reazione finito il manoscritto e se le hai chiesto qualche consiglio mentre scrivevi want to share them with you and I said you have to share them with me I must know for example how does an actor weep on demand night after night in a given play and eventually she explained how it was done when I had finished by that time I think I'd asked her every question that occurred so when I sort of handed in the manuscript to her she said well you got it right so I thought this is important and I was right to well to choose the theater as the setting and to have married a woman who could help me write the book as is always the case sì sapevo che un giorno avrei scritto un romanzo in merito al mondo del teatro semplicemente perché in quel caso non avrei dovuto ricorrere a una biblioteca o ricerche di biblioteca perché avevo semplicemente mia moglie che mi avrebbe potuto aiutare bevendo magari un bicchiere di vino insieme però quando ho chiesto a una moglie dei consigli in merito alla scrittura di tale libro era un po' sulla difensiva diciamo perché mi ha detto ci sono dei segreti in merito alla professione dell'attore che non voglio condividere con te che non si condividono e basta e gli ho detto no, devi condividerli con me perché devo scrivere questo romanzo per esempio mi chiedevo sempre come facessero gli attori a piangere su richiesta per così dire sera dopo sera performance dopo performance e lei mi svelò il segreto quindi poi alla fine del libro insomma lei ha dissipato ogni mio dubbio che avevo in merito al mondo del teatro e quindi quando le ho consegnato il manoscritto perché lo leggesse mi ha detto sì, va bene quindi anche io ho capito che era stata la scelta corretta quello di trovare come setting come ambientazione del mio romanzo il teatro ed aver scelto anche una moglie attrice un pesce di nome Wanda vorrei semplicemente dirvi qualcosa in merito a mia moglie dare delle credentials insomma di mia moglie se voi conoscete forse il film un pesce di nome Wanda l'avete mai sentito un pesce di nome Wanda è la star in assoluto del film è John Cleese e la moglie è di questa del personaggio è mia moglie nella realtà e a proposito di questo Joan la protagonista della guarda robiera è l'ultima di tante protagoniste femminili nei tuoi romanzi che tu descrivi con grande realismo con grande sensibilità efficacia no? poi qui vedo un pubblico femminile nutrito che ha ben più credenziali di me per stabilire questo ma la sensazione che che tu abbia trovato una chiave per raccontare anche un modo di amare un modo di amare in modo in modo ossessivo in modo pericoloso ci puoi dire come così there is still some imbalance in society that a woman has to work a bit harder to get what a man gets by being a man so there is a quality of strength and courage that is required of a woman and this began to interest me the figure of the strong woman who encounters conflict, crisis is challenged by the world, her society and that remains of great interest to me as a novelist Bene, questa è una domanda molto interessante devo dire, se qualcuno ha mai fatto l'esperienza di un amore in cui sei veramente innamorato in maniera intensa, quasi pazzesca non so se succede molto spesso nella vita ma se succede sicuramente non lo dimentichiamo beh, questo è quello che volevo descrivere anche e soprattutto in un mio primo romanzo che in italiano è introdotto Il Morbo di Haggard dove stabilisco esattamente la ricerca di questo tipo di amore perché in quel libro si parla del dottor Haggard che ama due pazienti dottoressa Haggard che ama due pazienti in maniera molto intensa e a un certo punto nella mia carriera ero stanco ero anche annoiato sempre solo di scrivere in merito a quello che succedeva agli uomini perché sappiamo che la maggior parte della letteratura alla fine parla sempre di quello che succede agli uomini quindi ai maschi e quindi ero interessato mi sono interessato alla scrittura di quello che sarebbe stato invece una donna come protagonista una donna forse che è ancora in qualche maniera vittima e oggetto di squilibri all'interno della società una donna forse deve lavorare in maniera più assidua più zelante per poter ottenere quello che un uomo ottiene semplicemente perché è un uomo perché è un maschio e quindi si richiede dalla donna forse questa forza questo coraggio che gli uomini hanno di per sé dato per scontato in loro stessi e quindi per me è diventato interessante analizzare queste donne forti e coraggiose che dovevano affrontare conflitti difficoltà nella loro vita e anche situazioni sfidanti all'interno del mondo in cui vivevano una società in cui agivano e questo rimane tuttora una tematica molto interessante per me in qualità di romanziera Ho letto in un'intervista che per avvicinarti al personaggio di Joan in particolare hai riletto il libro dell'immensa Joan Didion che è un anno di pensiero magico e mi chiedevo se addirittura il nome che poi hai deciso di dare alla tua protagonista sia un omaggio a Joan Didion the name that gave to your protagonist and maybe just homage to your protagonist Yes, good question not a conscious homage to Joan Didion but it did strike me later that this was probably not a coincidence but Joan Didion who were one of the most clever women in America well, clever writers in America a very rational analytical writer wrote a book about the grief she felt at the death of her husband the writer John Gregory Dunn who died very suddenly at the kitchen table and she called it the year of magical thinking and I'll be I'll be quite honest about what I stole from that book it was that after his death she was in a state of intense grief and her friends told her that it would be a good idea if she got his clothes out of the house and his shoes out of the house and she said no, she couldn't do that because he would need them when he came back and I found that a startling sort of confession from a woman who doesn't think magically but grief had brought her to make a statement like that and mean it Well, it's a good question for me to answer by saying not consciously not consciously forse I've chosen the name of the protagonist in John but I'll say that forse then I'll say I'll say I'll say I'll say that forse it's been a coincidence forse not so casual that I've given the name of John to the protagonist return of the book of John Didion that I've read letto John Didion è una delle scrittrici posso dire forse più intelligenti nella letteratura americana razionale analitica nei suoi scritti ha scritto un libro fantastico sul lutto per la morte di suo marito la morte del marito che era venuta praticamente in cucina al tavolo della cucina il libro L'anno del pensiero magico è un libro molto interessante e posso dirvi onestamente ciò che ho rubato per così dire da questo libro per scrivere il mio libro raccontava appunto della storia di questa protagonista che aveva vissuto un lutto molto intenso dopo la morte del marito e a un certo punto un'amica le ha detto di togliere tutti i vestiti e anche le scarpe del marito da casa e portarle fuori casa ma lei si è negata quindi non ha voluto effettuare questa azione semplicemente perché ha assedito che sarebbero servite al marito quando sarebbe tornato poi a casa e quindi per me questa è stata una confessione di lutto molto forte che mi ha interessato particolarmente ecco questa intensità nel sentire e l'ossessione vera e propria sono i temi ricorrenti in tutta la narrativa di McGrath e io vorrei approfittare del fatto che lui è qui per chiedergli di accompagnarci per un attimo nel suo studio perché io lo immagino come una sorta di laboratorio con materiale altamente esplosivo o altamente tossico come si fa a maneggiare questa questa materia e ritornarci ossessivamente a tua volta libro dopo libro Martino as you probably know writing is a rather dry and sober business you go to your desk in the morning you read what you wrote yesterday and then you pick up the story and it's it's a very serious technical exercise rather than an emotional exercise it's it's not difficult to return to a protagonist who is in a state of great suffering undergoing a great passion what matters is to imagine and then and then and then write what you've imagined with as much clarity and concision as possible and I don't I don't find that there's a lot of a large emotional element in doing this this is the story is developing in the imagination and the act of writing is 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 very much a technical activity and well that's that's why I'm I'm rather rather calm and cool in my laboratory well Martino come forse anzi probabilmente saprai l'atto della scrittura di uno scrittore è un'attività piuttosto possiamo dire sobria possiamo dire secca nelle sue azioni perché in realtà non si torna al mattino al tavolo alla scrivania dove si era terminato il lavoro la sera prima e si riprende in mano la storia dei protagonisti e quindi direi che più che un lavoro emotivo in qualche senso possiamo definirlo più un lavoro tecnico seriamente tecnico e non è così difficile ritornare poi dopo a un protagonista che sta soffrendo particolarmente oppure sta vivendo una passione sviscerata è semplicemente qualcosa che si sviluppa all'interno del processo dello scrittore ed è interessante è importante vedere quella cosa importante è l'immaginazione l'immaginazione si crea all'interno della mente dello scrittore e poi è importante mettere poi in parola quello che viene immaginato con chiarezza e trasparenza non sono tanto elementi emotivi legati all'emozione dello scrittore nello sviluppo della storia del personaggio perché io dico che la scrittura più che altro è un'attività soprattutto tecnica tecnica ed è per questo motivo che io all'interno del mio laboratorio sono piuttosto calmo e tranquillo pacato sembra semplice descritto così tu hai detto più volte che non c'è autobiografia nei tuoi romanzi però leggendo anche questo libro La guardarobiera mi chiedevo perché ritorna questo tuo interesse per i disturbi elementali e mi chiedevo che importanza ha avuto per te trascorrere l'infanzia accanto a un grande manicomio criminale dove tuo padre lavorava come psichiatra e come direttore di questo istituto totale come l'avrebbe descritto Foucault sì my father's work was with the criminally insane and he was a dedicated doctor but he did like to talk about his work and I remember at a very young age five or six years old that he would talk about the various bizarre murders that his patients had committed but I always knew that his interest in them was partially a fascination with how strange and grotesque their activities were that brought them to his hospital but at the same time he was a true doctor and his concern was the mental health of his patient he wished to treat them to heal them but if you absorb that sort of material at a very young age it has an effect on your imagination on your taste in reading and if you become a writer on the sort of work you do so I blame it all on my father but I would recommend if you're going to write fiction that if you have a father who is a psychiatrist is a very good move Sì devo dire appunto che mio padre era un medico che si occupava dei criminali malati di mente ed era un medico molto dedito al suo lavoro che però parlava anche molto volentieri del proprio lavoro e mi ricordo forse avevo 5 6 anni ero molto piccolo che iniziava già a parlarmi di questi omicidi strani particolari che avvenivano e che erano oggetto dei suoi pazienti all'interno di questo ospedale psichiatrico per criminali e sapevo che c'era anche un certo fascino all'interno di queste storie strane grottesche che erano all'interno di questo ospedale psichiatrico tuttavia dall'altro canto dobbiamo dire che era anche un vero e proprio medico che quindi doveva curare i propri pazienti doveva curare questi disturbi mentali dei criminali e quindi se siete così giovani e avete già la possibilità di assorbire tutta questa materia di tutto questo tipo di ambito sicuramente questo avrà anche un effetto su di voi sui vostri gusti sulle vostre preferenze di lettura e poi se siete poi uno scrittore anche sulla vostra scrittura naturalmente e devo dire che devo accusare mio padre di tutto tutto quello che mi ha portato a scrivere questi romanzi di questo tipo e quindi poi dopo se avrete un padre che è uno psichiatra all'interno di un ospedale psichiatrico per criminali naturalmente questo sarà un buon inizio per diventare magari scrittori in questo senso a proposito di questo in uno dei tuoi ultimi romanzi ho trovato e sottolineato questa frase tutti gli psichiatri sono scrittori mancati esiliati dal regno della letteratura a causa del loro bisogno di parlare proprio perché la disciplina psichiatrica richiede il confronto orale verbale tu sei uno scrittore affermato ma non ti senti uno psichiatra mancato non ti senti un psicologo ma non ti senti un psicologo ma non ti senti ma non ti senti mentre i scrittori preferono parlare con loro quindi non siamo compatibili in questo modo sì beh ci sono volte in cui mi sento forse sì uno psichiatra mancato per così dire però e sì altre volte penso addirittura che forse la professione dello psichiatra sia più utile rispetto a quello dello scrittore che scrive dei romanzi possiamo dire così sì però devo dire che non sarei in grado di poter fare il lavoro di mio padre ci sono certe cose che sappiamo fare perché siamo diversi l'un dagli altri quindi io non saprei fare quello che lui faceva sicuramente si uniscono i due settori della psichiatria e anche quello dell'immaginazione fervida che deve avere lo scrittore per poter naturalmente poi comporre e scrivere dei romanzi di questo tipo però devo dire che lo psichiatra è più la persona che ascolta ascolta i pazienti mentre invece lo scrittore non ascolta così tanto ma più che altro parla a se stesso e quindi in certo senso forse non sono compatibili bene io ti faccio ancora un paio di domande poi aprirei alle domande del pubblico dei tuoi nove romanzi tre sono diventati anche adattamenti cinematografici due di questi li hai scritti tu stesso qual è il tuo rapporto con il cinema quanto ti senti influenzato e qual è il bilancio che fai dei film che hanno tratto dai tuoi libri sui il cinema io io i i feed off the cinema i think off cinema when i was learning to write i used to go to a cinema in New York that just showed old Hollywood movies and they showed two a night for five dollars I think and I very consciously watched how scenes were constructed how dialogue tended to run when a scene was cut off body language and in this way I allowed film to influence the way I wrote narrative and this was a very important part I think of my sort of self-education and these days I really go for the pleasure of the thing and to be told a good story and to be presented with full characters on the screen and to be sort of aroused by the idea within the narrative all of which are the qualities of good fiction of course so it's very important to me now but it was more important to me I think when I was trying to understand narrative art as a young writer well, I really love cinema and when I learned to write when I was learning in the process of learning of writing I remember that in New York I could even see two films at night there were some cinema that gave them two films I think it was five dollars in total if I remember correctly and it was very important and very beautiful for me to see how they were made the scenes the scenes, the dialogue, when a scene was cut the language of the corps, the language of the corps of the actors in a particular way I can understand that this has influenced my narrative and it was also very important and interesting just for my process of auto-instruction per istruire me stesso all'interno della professione dello scrittore ed ora invece adesso vado al cinema semplicemente per piacere per vedere delle belle storie per sentirmi raccontare delle belle storie per vedere dei caratteri pieni per vedere dei personaggi pieni all'interno sullo schermo e anche per poter forse poi traslare delle idee che sono all'interno del cinema traslarle poi nella narrativa tutte queste sono buone qualità della narrativa secondo me e in ogni caso è stato molto importante approfondire il discorso del cinema per capire meglio l'arte della narrativa ecco sono passati quasi 30 anni da quando hai pubblicato il tuo primo romanzo in questi 30 anni Patrick McGrath ha ricevuto premi ha visto uno dei suoi romanzi Spider diventare un film di Cronenberg credo tante soddisfazioni ma qual è a oggi il libro a cui ti senti ancora più legato tra i tuoi romanzi? il libro a tutti la guadarrubiera la guadarrubiera la guadarrubiera è il tuo appare per un anno I've been trying to get moving on a new novel That's when that was finished It was a year ago But I'm haunted still It's always the way I'm haunted still by those characters By that story And only time can break that link So I can look back at the previous novels As though they were children Who have, you know, left home And messed up their lives But this is my infant And so I have the greatest sense of Protectiveness, really And affection for For Guarda Roviera Yes, yes Devo dire questo Questo è il libro Per il quale mi sento più legato È proprio La Guarda Roviera Devo dire sì che La Guarda Roviera Forse è il libro più vicino a me in assoluto Perché ci sono voluti anni Prima che scrivessi un nuovo romanzo Quindi dopo un processo di anni Ho capito che tuttora adesso In questo processo di narrativa Sono ancora infestato Dai fantasmi, dei personaggi Infestato dalla storia Ancora dentro di me Tuttora adesso E sarà solo poi il tempo Che riuscirà a togliere Questo senso di attaccamento Verso questo libro Perché quelli prima, precedenti Erano forse come fossero dei bambini Che lasciavano casa Andavano via Però questo è proprio Mio figlio Per così dire E ho quindi anche un senso di protezione Nei suoi confronti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti